Il premio internazionale di giornalismo Luigi Ronsisvalle, vice segretario della Federazione Nazionale Stampa Italiana e inviato speciale del quotidiano alla Sicilia e il nutrizionista Giorgio Calabrese, assente per motivi professionali. Il rapporto con una zona come la provincia di Siracusa, per uno a cui piaccia la storia e la cultura, è molto semplice, molto facile. In effetti a Pachino non ero mai venuto e non avevo mai visto le tonnare. L'ho trovata di una bellezza notevole e peccato che non sono recuperate con quelle attività di archeologia industriale che viene fatta in alcune altre zone perché lo meritano davvero. Per cui non posso che essere contento di aver ricevuto il premio e contento di trovare un territorio che capisce che la cultura non è una voce di spesa ma una voce di investimento nei bilanci della pubblica amministrazione. La cultura fa stare meglio, c'è poco da fare, fa stare meglio la testa, fa stare meglio lo spirito, fa stare meglio la comunità, insegna a rispettarsi, a conoscersi, a crescere e tra l'altro anche in queste zone credo che ci siano emergenze tali per cui imparare a rispettarsi e a confrontarsi nella crescita è opportuno per tutti. Il premio a Brancati significa mettere assieme tante cose, soprattutto significa mettere assieme un giornalismo di 30 anni fa che non c'è più e il giornalismo di oggi che è cosa ben diversa da allora. Di Brancati ancora oggi apprezziamo lo spirito, il modo, la curiosità e il volere raccontare se stesso e gli altri nel mondo che viveva. Oggi purtroppo è il mondo che si racconta da solo anche senza i giornalisti e i giornalisti aspettano un altro compito, quello se lo vogliono fare di scavare, di dare elementi perché i cittadini possono capire meglio ciò che succede. Per Magdi Cristiano Allam, giornalista ed eurodeputato, questo premio ha lasciato un ricordo particolare. Il ricordo di una terra che ha a cuore le proprie radici, che è molto sensibile al tema dell'accoglienza e che è consapevole che è necessario definire delle basi che consentano da un lato di salvaguardare ciò che noi siamo, la nostra identità, i nostri valori, la nostra civiltà e dall'altro poter rapportarci in modo costruttivo e amorevole con il prossimo, con chi sceglie di venire qui a Pachino per migliorare le proprie condizioni di vita. È un'equazione che si risolve nella nostra capacità di superare il buonismo con il bene comune, ispirandoci all'esortazione evangelica Ama il prossimo tuo così come ami te stesso e sottolineo così come ami te stesso. Il premio è stato organizzato dall'Associazione Culturale Vitaliano Brancati in collaborazione con la società Dante Alleghieri di Pachino e dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Pachino. È stata una terza edizione importante quella che si svolta oggi a Pachino, abbiamo avuto personaggi importanti del mondo della comunicazione. Vitaliano Brancati diventa veramente una grande realtà di cultura per quanto riguarda la provincia di Siracusa e non solo per la Sicilia e non solo per l'Italia. Per un altro motivo oggi avevamo l'ex ambasciatore alla Santa Sede, Zeffe Busciati presente, con il presidente della provincia di Siracusa, Nicola Bono. Abbiamo concordato di fare un gemellaggio di cultura naturalmente tra la provincia di Siracusa e l'Albania. Questo significa portare Vitaliano Brancati all'estero, significa portare la cultura di Vitaliano Brancati oltre i confini nazionali, ma soprattutto portare la città, questo territorio, Pachino, la provincia di Siracusa, veramente all'estero e a livello nazionale. Abbiamo bisogno di cultura. Questo è il nostro messaggio e grazie a Dio abbiamo dalla nostra parte Vitaliano Brancati.